Scendiamo, scendiamo, uh E qua? Oh ma c'è una boss, fight raga Ma questa non lo sapevo mica Va bene, vita Oh no, mi ero appena sdraiato Devo concentrarmi adesso Oddio, che brutto che sei Oddio, che male che fai Allora Tutti i nemici in questa area Oh, una volta lo l'ho colpito comunque Maia, come faccio a schivare quello? Ma mi ha arato raga F Allora sono Lancia la sfera, lancia i vermetti la oscuri E poi mi carica in avanti Ok, sono tre le mossi che fa Devo capire Aia, fa anche una scarica a terra Niente 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 Questi non ho capito come schivarli Quelli davvero non ho capito come Eh niente Oh no, non ho capito come schivare la oscuri Cos'è? 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 Cosa sei? Dammi la vita Vai via Non ho idea di cosa tu sia Però è stato più difficile Quanto non lo fosse in realtà Era semplicissimo Ero io stupido Che cos'è? Sono un curioso Permette di puntare il mirino su un massimo di 5 obiettivi E sparare una carica di micromissili guidati Hai capito? Tieni premuto R per iniziare a caricare i missili Quando sono carichi aprirò un puntatore giallo Possiamo usare questi missili per Attaccare i obiettivi multipli Che possono attivare le casse tempesta Va bene Va bene Eh vabbè però Vai via Vai via Ok Ok Va bene Allora andiamo qua sotto Ok Figo E come sono indicati nella mappa Così Ce n'è uno là Va bene Va bene Ok Quindi io adesso devo andare E devo sempre andare l'unità centrale Il cervello Dov'è? Qua Quindi devo entrare da Chi lo sa? Da qua posso entrare? Di qua cosa c'era? Allora 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 Io devo andare Va bene Innanzitutto andiamo a salvare No? Andiamo a salvare Yes Ok Poi Questo va via Dalle balle E adesso vado Di qua non c'è niente No? Allora Torniamo nella porta Emmy Che ti devo dire? Servito a nulla Servito a nulla Dai però Andate tutti a cagare Stai calmo Stai calmo Emmy Eh vabbè Vabbè Avevamo salvato qua Quindi Nessun problema Allora Io mi domando Dove devo andare Adesso Dai Qua c'era una porta Ah ecco Qua c'era Un attimo Così Tadadadada No Non li ho presi tutti Ok Adesso si Quindi Scorciatoia Vai via Scorciatoia Salviamo Cioè in realtà Non salviamo Ci curiamo E io presumo Deba andare Qua Che c'è una sfera Abilità Ah ah Penso proprio Di sì Quindi adesso Scendiamo a sinistra Tutto in alto A sinistra Ok Oh no Mi so No due Sei matto Due Oh no Allora No no Non ci siamo capiti Eh niente Il parry Lo sappiamo fare Mi dicono Non ce la posso fare Non ero pronto Ci riproviamo Allora Sono fattibili Infatti mi sembrava Troppo lungo il caricamento Da una stanza all'altra Dai vieni Perriato Vabbè 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 Quello non si può perriare Quando lo fa rosso Eh infatti O forse Forse sì Aia Ma io ho saltato Eh vabbè Avevo iniziato bene Eh niente Sì quando mi fanno Sì quando mi fanno L'attacco rosso Non si può perriare Credo Mentre quando me lo fanno Normale Yes Perché il parry Mi dà anche le cure E quindi Importante Dai Dai Eh niente Due Dai però Ecco Quello lo potevo perriare Adesso no Lo potevo perriare Va bene Ah è vero Posso Fare così Perché fermo Quello nero Oddio Oddio Eh vabbè Comodissimo Da sfruttare Adesso Che i missili Seguono La La Preda Diciamo Una volta Che li ho puntati È vero Oh iniziano ad essere A avere troppi poteri Samus A ricordarseli Tutti Ecco Niente Non riesco A premere Tutti Quei tasti Contemporaneamente Si Fammi schivare Per favore È complicato È complicato Eh vabbè Dai Dai però Dai Oh ma mi vai Nei denti Nei denti Devo perriarne uno Per recuperare Ecco Non questo Magari Ok Ce l'abbiamo Ce l'ho fatta Voi non avete fatto niente E non vi ho neanche fatto vedere niente Questo perché Non so adesso Quanto vi lascerò Del Quanto vi lascerò Della registrazione Perché avrò registrato 40 minuti E ho dovuto buttare Tutto Tutta la registrazione Oddio No 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 Allora eh Calmi Perché io non ho di vita Adesso Calmi Sono appena uscito Da uno scontro Non potete farmi questo Non ho di vita Ma io devo andare sopra Perché non sono andato sopra Allora Adam mi parli Non mi interessa Voglio solo salvare Perfetto Grazie Adam Volevo dire Avrò registrato 40 minuti E ho Tenuto Niente Allora no Devo andare A questa abilità Perché qua posso andarci Adesso Però anche qua in basso Non ci sono mai stato Perché era blu Poi Non mi ricordo Andiamo prima in basso Solo perché Non me lo ricordo Attualmente Sì vabbè Sì vabbè Dai vieni Infame Ok Qua c'è il teletrasporto Vabbè Quello infame Ah perché c'era freddo Ecco perché non ti sono stato Va bene Allora andiamo Dove c'è l'abilità Che probabilmente È la tuta contro il freddo Aia A sto punto No questi erano perfetti Per fare Eh dai Uno di vita Erano perfetti Da battere Per ottenere Della vita Volevo dire Vabbè comunque Non ho recuperato niente Ma va bene Andiamo di qua Sì vabbè Eh vabbè Ma non mi perria F Giga Mega F Ma Meno male che ho salvato Perché qua era Un casino Grazie Tra l'altro dovevo andare Di qua Allora Basta Ok Eh vabbè Fammi salire Ok Allora Ma non l'ha preso uno Yeah Finalmente Dammi l'abilità Cos'è Le gigabombe Tipo Ah no L'altro salto Perché Almeno non è scontato Come gioco In alcuni punti Sì Però voglio dire Almeno non Tipo tu dici Eh mi aspetto questo potere Invece no Vabbè Il salto infinito Premi B Il momento giusto Salto all'infinito Va bene Sì Vita Datemi la vita Vabbè In acqua è inutile Questo potere Va bene E quando mi arriva Sto tutta gravità E io dove devo andare Adesso Scusate Non può saltare All'infinito Sul posto Dove devo andare Devo tornare indietro Ok Devo scendere di qua Scendere la discesa Di qua Eh esatto Perché in acqua Non ci posso andare No No Perché Ma scusa Che senso aveva Non ho capito Dove devo andare Eh astro salto Sì però Ah ok Già arrivato No Eh sì Allora Ah devo fare zig zag Come devo fare Perché non mi salta Ah ok Adesso mi salta Boh Va bene Ok Mi si è aperta la porta Oddio Stavo per prendere schiaffi Da quello Ah e potevo Perriarlo Così mi dava più vita Di qua non si poteva andare Giusto Eh no Cioè in realtà No Non osare a cadere Allora Ah prima di tutto Salvo da qualche parte Si torna indietro qua Ma qua siamo a Ferenia Ok Posso fare backtracking Punto di domanda Ah in teoria Posso girare per tutta Ferenia Adesso volendo Non penso di avere Qualche zona limitata Anzi Non dovrei andare Di qua Non credo Forse no Modulo energia Ottenuto Eschio era Quello là Modulo energia Questo non l'ho Tenuto Vabbè Per ora andiamo Dove vuole il gioco Di nuovo A Gavoran E' Grazie.